Buonasera da Ponte Buriano, uno speciale estivo di Nero su Bianco che poi si dividerà anche in una seconda parte perché poi ci sposteremo alla Casa dell'Energia per parlare di fotografia di Arezzo come era un tempo con Piero Franchini che saluto. Ciao e buonasera a tutti. Quindi sì, effettivamente qui diciamo fotografia già se ne potrebbe cominciare a parlare da qua. Questa è una bella fotografia. Questa è una bella fotografia e spero che se ne facciano tante perché io te lo sai che io sono un amante di Ponte Buriano proprio amante sai come nel senso vero della parola. E quindi ecco l'ho già detto ma lo ridico io l'ho attraversato circa 70.000 volte perché dai conti che ho fatto e dagli anni che ho e grosso modo so che l'ho attraverso due o tre volte al giorno. Quindi ecco, so che cosa vuol dire Ponte Buriano e io solo che dico come si può pensare addirittura una volta avevano pensato di affogarlo. Tu pensa. Avevano pensato di affogare il Ponte Buriano. Quindi un'opera d'arte in questo modo e doveva essere... Quindi sì che vuol dire ora infatti lui resiste ma bisognerà vedere che si faccia un qualcosa oltre che a restaurarlo. Poi credo che dovremmo trovare la soluzione perché questo traffico che oggi passa da lì sopra non penso che lui possa continuare a sopportarlo anche se sta zitto non parla però insomma credo che perché io credo che questa è un'opera d'arte che va effettivamente riqualificata e credo che pian piano va trovata la soluzione per il traffico che deve essere tutta un'altra cosa. Allora io saluto Carlo Fiordelli responsabile del servizio viabilità della provincia di Aghezzo. Abbiamo qui una vasta rappresentanza questa sera della nostra cara provincia che noi la salutiamo sempre con piacere perché è un ente che malgrado sia stato purtroppo, dico io, un pochino limitato. Anche lì hanno funzionato le motoseghe. Sì, però le motoseghe sbagliate. Le motoseghe sbagliate, sì. Perché poi abbiamo visto quanto è importante e quanto era importante per quello che faceva. E poi saluto Pierangelo Casini, architetto, direttore dei lavori, poi l'ingegner Paolo Mori, Luciano Leoni, geometra, sempre della provincia di Aghezzo e poi Alberto Gualdani che è il padrone di casa dal quale io partirei. L'uomo del ponte. Tu vivi sempre qui praticamente, non ti muovi. Dove ti trovi durante il giorno? No, prima i suoi vivevano... Intanto io sono uno dei pochi indigeni rimasti, questo è importante. E il destino ha voluto che rimanessi perché nel 63 studiavo violino e fui invitato da un... da un... diciamo un impresario che aveva un night a Roma. Fui invitato ad andare a Roma per suonare per lui. Non andai via per non lasciare Ponte Puriano. Mi avrebbe dato paga a figlio, quindi con tutto quello che ne conseguo dietro. Quindi non c'è tutto, si vede che era il destino che... Dovesse salvare Ponte Puriano, come diceva prima Piero che questo ponte purtroppo... Quest'anno sono 25 anni. 25 anni a luglio uscì la prima notizia del rialzamento della diga. Quindi avevo i pantaloni corti, però insomma mi misi in moto e riuscendo ovviamente... La provincia ebbe... Ecco l'importanza della provincia. Ebbe un ruolo veramente principale perché poi all'ultimo il progetto alternativo che fece con i tecnici incaricati dimostrò che se poteva evitare l'allagamento di Ponte Puriano spende nemmeno soldi per salvare a Firenze. Quindi questo va anche ricordato. Poi secondo diceva questa struttura... Ecco questa struttura voglio far presente che non ha nessun vincolo particolare ad eccezione dei 70 anni per legge della soffittendenza. Quindi non c'è nessun vincolo. Non esiste insomma... Non esiste vincoli diversi da quello degli anni che ha perché... Sopra 70 anni sotto... Però insomma è un vincolo un pochino labile. Per il resto io sono molto contento perché sono 20 anni che mi sto partendo perché forse questo ponte avesse il suo dovuto restauro conservativo e strutturale perché chiaramente è anche una infrastruttura come vediamo quando si chiude i disagi sono grossi perché ovviamente è l'infrastruttura fra le principali della provincia. È l'unico che regge il traffico pesante nella zona e quindi insomma io credo che questo andava fatto. Quindi il disagio che c'è credo che sia sostenibile perché altrimenti non si sarebbe potuto sistemare questa struttura e se sarebbe rischiato di averla... forse forse perché se continuavano a fare... Se la regione non trovava i fondi per iniziare quest'opera... Perché bisogna ringraziare... bisogna le cose di come stanno perché... In fondo la regione, l'assessore Ceccarelli che tutto sommato non era manco la sua perché è la provincia quindi poteva anche lavarsi le mani. Ha trovato questi soldi, l'ha messa a disposizione per iniziare la ristrutturazione e credo che questo gli sia dovuto l'onore e l'onere che tutti gli dobbiamo. E come riferito sono molto 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 soddisfatto dell'inizio del restauro fra l'altro c'è questi tecnici che ho avuto l'onore e il piacevo di conoscere, di stare insieme sono molto bravi, hanno fatto un lavoro così certosino da scaglionare pietra per pietra per granello di sabbia per granello di sabbia quindi siamo in mani buone e sicure. Vuoi chiedere qualcosa? Vuoi approfittare subito tu Piero? Sì, allora io dico che prima di tutto ho scoperto un'altra cosa che anche il Guardiani ha portato i calzoni corti io pensavo che era nato grande perché io pensavo che era sempre stato l'uomo del ponte e era nato grande quindi invece ha portato i pantaloni corti ma io chiedo le cose che forse chiederebbero tutti questo restauro che viene fatto fra pochi giorni quanto consoliderà il ponte? perché io quando sono qui sotto e vedo sopra quei camion enormi che passano io sto lì così tremando da una volta all'altra questo viene giù quindi quanto consolidano questi lavori che vengono fatti ora? Consolidano molto, consolidano parecchio consolidano in maniera importante il ponte è chiaro è un primo straccio di lavori che noi facciamo per dare una prima risposta con quei pochi soldi che abbiamo a disposizione siamo partiti dagli elementi che sono strutturalmente più pericolosi elementi che hanno maggior criticità e per poi cercare di reperire successivamente nei prossimi anni i fondi per fare un restauro definitivo se noi facciamo un sopralluogo sotto il ponte vediamo benissimo che manca tutta l'intonaco sotto perché sembra strano ma anticamente era intonacato o meglio più che intonacato sulla scintinatura del ponte quando cadeva la malta praticamente faceva da intonaco e rimaneva una rizzaffatura che metteva in protezione la parte dell'intradosso del ponte in maniera tale che non fosse attaccata e gli dava anche una certa finitura un certo grado di finitura stiamo studiando anche di rifare questo elemento qui dobbiamo risistemare tutti quelli che sono vi faccio vedere tutte le parti esterne del ponte tutti i timpani ma soprattutto bisogna andare ad intervenire sulle lesioni che ci sono sui rostri se voi fate caso a questi rostri arrivano scusate un attimo arrivano su guarda il ponte che forse viene anche meglio normalmente i rostri si fermano alle reni praticamente dove si vede l'attaccatura dell'acqua voi andate a Roma vedete ad esempio Ponte Milvio che è un ponte romano e non romanico che ha gli elementi tondi che servono per passare l'acqua i ponti che si trovano normalmente nella zona hanno questi contrafforti che arrivano a tre quarti diciamo dell'altezza del ponte questo è l'unico caso insieme a Ponte Vecchio e un altro paio di ponti in cui i rostri arrivano in cima all'altezza del ponte la caratteristica di questi rostri qual è? che all'interno sono riempiti fino alle reni in Malta Militare dall'erenizzo in terra questi rostri hanno una struttura passante e vanno dal rostro a monte al rostro a valle nel momento in cui si apre i rostri come si sono aperti nella zona a monte nel rosto 2 nel rosto 3 e nella zona valle questi qua giù si apre abbiamo una perda di materiale il terreno che all'interno viene giù scarica l'arco e quindi mette in crisi mette in crisi completamente la struttura per cui è un primo passo i lavori che stiamo facendo sono un primo passo importantissimo per mettere in sicurezza da un punto di vista proprio statico la struttura una volta che siamo intervenuti con questo intervento ed abbiamo sistemato i rostri quindi li abbiamo consolidati abbiamo fatto sì che questi rostri non si aprano non ci sia la perdita di materiale terrosse ed altro andremo appena troviamo soldi ovviamente appena ci troveranno i soldi ad intervenire nella parte dell'arco nella parte dell'estradosso dell'arco andremo a rinsaffarlo tutto rintasarlo tutto ridare quindi continuità all'arco e successivamente andremo a lavorare sui timpani questa struttura qui è una struttura in doppia muratura ha imparamento esterno e una muratura interna in malta militare che sono collegati tra di loro in maniera molto importante diciamo normalmente i rivestimenti delle mura sono appoggiati a Madonna come si può dire questi invece sono elementi che si vanno a incastrare l'un l'altro e quindi danno anche una buona tenuta internamente dall'Irene in su come dicevo è tutta terra quindi dobbiamo far sì di riconsolidare questa parte e riportarla diciamo ad avere una staticità accettabile veniamo al discorso del traffico come si vede il traffico è la cosa peggiore che possa sopportare questo ponte consideriamo che è un ponte che è nato nel 1240 finito nel 1277 e ha sopportato ben altri carichi in passato il problema è che negli ultimi decenni c'è stato un incremento di traffico soprattutto di traffico pesante e abnorme che non si capisce tra l'altro come abbia fatto questo ponte a reggere un volume di traffico con la velocità con cui viene attraversato il ponte addirittura si vede i mezzi che per aver paura di rimanere bloccati dal semaforo accelerano quindi quando si tratta di motrici di autotreni o d'altro è uno sforzo molto molto importante quando ci sarà questo restato anche definitivo il traffico rimarrà comunque bisogna trovare una soluzione comunque alternativa questo però è un discorso che aspetta non a noi a livello personale come diciamo come cittadino io auspico che venga realizzato una viabilità alternativa in modo da poter scaricare il ponte e poterlo diciamo e poterlo lasciare a un traffico leggero non lo eliminerei il traffico non lo eliminerei per un motivo semplice perché una volta eliminato il ponte perderebbe la sua importanza perdendo la sua importanza non avrebbe quella manutenzione quelle attenzioni che ha un ponte che è trafficato per cui lascerei un traffico minimale un traffico però che sia sempre diciamo un ponte che abbia sempre una sua importanza a livello locale perché questo da un punto di vista urbanistico è un aspetto importante proprio per evitare che si perda la memoria storica di questo attraversamento ed è una cosa abbastanza importante questa ci fermiamo un secondo e poi ripartiamo tra poco seconda parte di Nego Sto Bianco da Ponte Bugiano ormai ci siamo dal 16 luglio ci sarà la chiusura di nuovo al traffico del ponte con Carlo Fiordelli responsabile del servizio viabilità della provincia di Aghezzo abbiamo notato che vedremo anche un servizio che questa volta diciamo si è cercato un po' di risolvere qualche criticità che c'era stata l'anno scorso senza altro quest'anno come dice un detto dice sbagliando si impara e quest'anno speriamo di aver imparato bene abbiamo fatto a quanto crediamo le cose molto con studi appropriati e cercheremo di limitare al massimo i disagi per gli utenti la prima cosa abbiamo fatto un investimento di circa 110 mila euro nella strada dello spicchio l'abbiamo allargata mediamente di un metro e cinquanta per un buon 65-70% nei punti più critici chiaramente Santa Margherita è impossibile è impossibile allargarla perché ci sono le case che si fronteggiano e lì ancora avremo il semavoro però abbiamo fatto un intervento molto 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 serio altra cosa che faremo per non fare entrare i veicoli di massa superiore ai 7,5 tonnellate è quella di inserire due telecamere una sarà messa proprio al bivio della variante qui di Ponte Puriano che andando verso Capolona che prenderà tutti i camion di massa superiore a questa portata poi noi trasferiremo alla nostra pulizia provinciale che probabilmente verbalizzerà stessa cosa lo faremo nel comune Capolona in via Berlinguer nella frazione di Castelluccio per i veicoli che vengono verso Ponte Puriano però la cosa più importante questa volta che abbiamo iniziato a segnalare la chiusura di Ponte Puriano sia dall'uscita di Arezzo dell'autostrada e sia dall'uscita del Valdarno dell'autostrada praticamente noi da loro ciuffenna manderemo tutti i veicoli di massa superiore 7,5 tonnellate verso la 69 verso il Valdarno chiamiamolo inferiore comunque riva sinistra non come ci troviamo adesso nella riva destra per cui questa volta pensiamo che questo posto sia salvaguardato e che tutte le persone che prenderanno l'autoveicolo personale la macchina per essere più semplici e più diretti perché il pubblico ci sta ascoltando troverà la strada molto più sgombra perché non troverà tutti i problemi dell'altra volta chiaramente ci saranno delle eccezioni che sono impossibili non avere che sono quelle del TPL il traffico dei pullman e alcune attività tipo la nettezza urbana e mezzi di soccorso chiaramente poi altra cosa importante che stiamo predisponendo è rispetto all'altra volta è quasi il raddoppio della segnaletica in tutti gli incroci che vengono in questa zona per cui questa volta dice sbagliando si impara speriamo da avere imparato sarà difficile sbagliare vediamo il servizio con le immagini che abbiamo fatto proprio vedendo queste migliorie tra cui la strada allargata Cantiera all'opera Ponte Buriano per la seconda fase del restauro anche in vista della chiusura al traffico del ponte dal prossimo 16 di luglio i tecnici della provincia insieme al funzionario responsabile della soprintendenza hanno individuato gli interventi prioritari per gestire il ripristino con una tempistica più veloce se non ci saranno particolari problematiche il ponte che si trova sulla strada provinciale uno dei sette ponti sarà riaperto tra fine agosto e primi giorni di settembre nel frattempo si sono svolte le operazioni di graduale svaso della diga della penna per consentire l'allestimento del cantiere a Ponte Buriano in modo da raggiungere la quota necessaria in alveo per allestire i ponteggi operazione in corso e che si concluderà a metà mese come aveva ricordato il presidente della provincia Roberto Vasai se non fossimo intervenuti subito c'era il rischio di dover chiudere Ponte Buriano da un momento all'altro e non potevamo certo permetterci di perdere un'opera di un valore inestimabile limiteremo al massimo i disagi e abbiamo piena considerazione di tutta l'utenza che transita in questa zona e sarà costretta a una viabilità alternativa nel rispetto dei tempi molto dipenderà dalle condizioni climatiche Allora effettivamente sono stati fatti dei passi in avanti notevoli per il sole gira per evitare il disagio tra l'altro tu la fai tutti i giorni tu pensavi che a Ponte Buriano non girasse no pensavo di no gira anche qua si la faccio tutti i giorni ecco però sono curioso di sapere se qualcuno mi dice stanno litigando bellissima questa cosa stanno litigando credo che l'autista del furgone stava rimproverando quello davanti che stava usando il cellulare ed era distratto se abbiamo capito lo ha mandato in un posto che insomma probabilmente di sotto ecco dicevo sono sempre stato curioso se mi si può aiutare di capire quanto traffico passa tutti i giorni sopra questo la domanda che gli avrei voluto fare sentiamo allora questa la SP1 in questo posto qui ha un TGM traffico giornaliera o medio di circa 12.000 veicoli è roba ci avrebbe mai pensato è roba e di questo si sa quanti mezzi pesanti più o meno c'è una stima circa il 20% ecco Leonardo io credo che non avrebbe pensato mai che lì ci passavano perché allora ci passavano i barocci quindi ci passavano i cavalli quindi ecco e lì c'era una volta c'era Guadani mi ha raccontato anche una cosa simpatica che quando a un certo punto qui c'era una specie di dogana sulle garette si chiamavano sulle garette c'era questo tizio che stava guardando appunto controllando il ponte e si era messo a sparare a sparare ai piccioni capitano degli archibugieri capitano degli archibugieri di stanza e fu condannato a sette anni di carcere per colombicidio ecco quindi di lavori forzati quindi si chiamavano quindi questo po' fu la domanda che il giudice fece dice ma al vigile accettatore dice ma lei come ha fatto a capire che era in colombe perché mi ha detto che non aveva le penne e lui risponde dalle gambine rosse quindi ecco cioè qui di storia ce n'è quanto ne vogliamo quindi c'è delle cose curiose ecco quindi come abbiamo visto questo traffico che è diciamo veramente importante questo ponte non lo io le ripeto sempre le stesse cose però non lo può sopportare a lungo quindi ecco dobbiamo cercare tutti insieme di fare qualcosa per vedere di fare di creare un'alternativa a questo traffico c'è una cosa bellissima poi che è molto tempo che non lo diciamo sotto l'asfalto c'è un bellissimo celciato anche potrebbe essere di origine anche pre 1244 noi abbiamo fatto dei sondaggi Gualdani era presente era presente anche l'ingegner Mori ottobre 2012 e abbiamo trovato il celciato insieme alla sovintendenza archeologica di Firenze è un celciato bellissimo non c'era l'asfalto quindi allora sicuramente era qualcosa che doveva sopperire all'asfalto insomma quindi mai pensato che Leonardo che dice qui mettono una cosa perché lui ne pensava tutte perché aveva fatto il carro armato aveva fatto l'elicottero aveva pensato tutto no per dire e quindi la bicicletta dopo 200 anni l'hanno fatta e lui l'aveva già disegnata 200 anni prima dopo 500 l'elicottero? dopo 500 ed è recente l'elicottero del 40 i primi i primi pseudo elicotteri insomma per cui era andato avanti pareggio e non c'erano nemmeno le spallette le spallette sono state fatte nel 1700 nel 1700 e c'erano i paracardi un'altra cosa che sono curioso di sapere dalla punta più alta della arcata lì togliendo la spalletta quanto è alto il ecco praticamente dunque praticamente guardi è a livello se lei vede la differenza di pezzatura dove finisce il rostro inizia praticamente la strada lì hanno fatto la massicciata in effetti ci sono 10 15 centimetri di livello perché all'epoca passavano i carri non avevano bisogno di andare per cui siamo a livello vede l'arco il conscio in chiave praticamente è 20 centimetri sotto il manto stradale ho capito la spalletta una cosa bellina caratteristica da dire che questo c'è la legenda metropolitana che questo ponte fosse legno non è vero erano due ponti a Ponte Buriano fino ai primi dell'ottocento da metà del quattrocento fino al 1830 c'erano due ponti questo ponte qui che era fatto nel 1900 e l'altro ponte il legno che andava giù verso una dimensione più o meno questa del ponte anche perché l'alvio prima non era questo qui l'alvio era una sorta di serpentina che andava verso Quarata e ritornava indietro quando Dante dice che l'Arno volta il muso sdegnoso di Arretini non è quell'ansa lì in confluenza con la Chiana ma era l'ansa in cima che andava verso Quarata e ritornava indietro quindi questo ponte queste tre anse dell'Arno venivano scavalcate da questo secondo ponte il legno che andava verso Castelluccio ecco senti quante cose si imparano ora io c'è un'altra cosa prego volevo dirti un'altra cosa importante che è che questo luogo diventerà anche un altro punto attrattivo la provincia ha forzato molto e questo luogo qui sarà l'incontro di tre piste ciclabili la pista del Casentino la pista dell'Arno che va in Val d'Arno e la pista ciclabile che viene da Rezzo si ricongiungeranno a ponte Buriano anche con un intervento architettonicamente molto bello anche dietro la consulenza del nostro architetto Casini quindi questo è un ulteriore perché sono tanti appassionati delle due ruote il ponte che hanno fatto appunto sulla Chiana il ponte ciclabile che appunto è stato fatto sulla Chiana che collega tutto il discorso della Chiana cioè la pista ciclabile che c'è lungo la Val di Chiana che porta fino a Chiusi mi sembra e quindi ecco credo che effettivamente siano cose importanti ecco e qui come giustamente dovrebbe essere qui se noi questo ponte l'avessero in altri paesi in altre nazioni probabilmente a quest'ora sarebbe diventato un museo sarebbe diventato un ecco infatti questo è un bel motivo di dibattito chiedo a Gualberto perché ecco nonostante questa bellezza risaputa che tutti vediamo non sia riusciti anche a valorizzarlo da parte ovviamente di chi ha il governo negli anni anche di le politiche turistiche culturali eccetera non certo per colpa nostra no no certo voi avete fatto il possibile nel 95 ebbi la possibilità di intervenire maggio 95 in un convegno alla banca dell'Etruria a Rezzo per un turismo di qualità quindi mi detti la possibilità di intervento e già da allora feci la proposta di unire Leonardo a Pia della Francesca cioè fare dei pacchetti unite all'ambiente poi dopo non so perché Leonardo è diventato le destra Pia della Francesca le sinistra queste sono le cose strane che poi le canzoni di Gaber sì sì no ma è è realmente così ma è successo questo io non so io dico lo stato dei fatti poi il perché va ricercato da parte del Comune di Achezzo è un po' quello che diciamo varie volte ma non solo da adesso sembra quasi che qui non si sia di chi comune è non raccontiamo una cosa perché non è meglio non la raccontare non la raccontare però la sensazione voi che ci vivete la percepite o no? io con Piero si è fatto un comitatino un mese fa proprio perché il prossimo anno è il 500esimo anniversario della morte di Leonardo il 2 di maggio va bene quindi se hai inviato delle proposte al Comune alla provincia alla Regione la Regione ci ha telefonato la provincia ci ha telefonato il Comune ha detto troppo presto me l'ha mandata e poi rilano altro perché non è compito me l'ha mandata al sindaco al vice sindaco e all'assessore Comanducci quindi non mi sembra che fra l'altro era dovrebbe essere un intervento che chiaramente noi si può mettere si fa un monumento a Leonardo sul marmo di Carrara poi si poteva abbinare perché Amboase dove è morto Leonardo il 2 maggio del 1519 è simile è un comune di 12.000 abitanti su un fiume ha un ponte di 8 archi meglio vale anche quello quindi se il Comune la risolesse potrebbe anche ricercare la forma di fare un gemellaggio con questo comune poi un'altra proposta era quella di scoprire l'ottavo arco famoso quello che nel 2001 quelle due studentese per il suo studio riuscirono a far rilevare perché poi quell'arco lì era a fondo di guerra dal mio babbo quindi lo conoscevo molto bene quindi riscoprire anche l'ottavo arco che è di sopra fra l'altro può servire anche per controllare la staticità del tutto perché insomma anche quello fa parte della struttura e in più creare diciamo proprio sull'ottavo arco o accanto un qualcosa con cartellonistica decente noi si è fatto quel cartello da cantieri dove si ricorda un ponte da Rezze Parigi però insomma una cosa un pochino più decente ecco questo che noi teniamo una valorizzazione un'illuminazione decente con una cartellonistica decente credo che già insomma di turisti di turisti di gente che non si ferma ma la fotografia la fa ne passa tantissima durante il giorno pulmano interi a fotografare questo ponte perché c'è la pubblicità torniamo subito dopo la base allora dicevo da cosa voi stavi dicendo si appunto dicevo che lui simpaticamente è stato molto corretto perché non ha detto la terza proposta che la fece appunto il vice sindaco di Castiglian Piochi Ernesto Ferrini che disse chiese l'annessione di Ponte Buriano e Cincelli al comune di Castiglian Piochi e quindi ecco forse forse probabilmente avrà scelto male probabilmente ecco diciamo che forse un comune un po' più piccolo ne avrebbe tenuto un po' più di conto insomma ecco perché effettivamente non ci si pensa mai ma è il comune di Arezzo è il comune di Arezzo qui siamo il comune di Arezzo con l'ingegnere Paolo Moghi abbiamo più o meno raccontato quello che sarà di Castiglian Piochi sulla tempistica si può dire qualcosa nel senso dipenderà anche dalle condizioni climatiche sì direi allora l'intervento è molto complesso dal punto di vista del restauro per la tipologia dell'opera però presenta anche delle complessità per dove è inserito il ponte cioè mi spiego abbiamo una zona diciamo limitrofa di parco e quindi ci sono delle limitazioni legate all'area protetta poi abbiamo delle limitazioni legate al livello delle acque cioè non possiamo abbassare troppo il livello di acqua perché c'è questa acqua qui è riserva di acque per l'acquedotto Figline quindi ci muoviamo in un contesto autorizzativo piuttosto delicato in più c'è una previsione che ancora sarà tutta da confermare legato un attimo all'estate che diciamo già domani per esempio ci sono delle fiogge all'erta meteo codice giallo per cui noi abbiamo fatto tutto abbiamo predisposto la ditta ha assicurato le doppie squadre per poter velocizzare i tempi e il disagio quindi dai cittadini perché ci rendiamo conto insomma che questo ponte è strategico ecco tenteremo di accorciare diciamo i più possiedi le fasi di chiusura totale del ponte però questo è evidentemente condizionato dall'andamento meteorologico stagionale perché altrimenti l'uniaccesso diventa il fiume per cui se c'è un andamento meteorologico stagionale sfavorevole dobbiamo gli operai devono accedere dal ponte cioè nelle strutture di ponteggio che verranno sistemate e poi anche per esempio nell'ultima lavorazione abbiamo trovato delle problematiche degli inconvenienti sul lavoro di fatto i rostri diciamo sono uno diverso dall'altro perché è un ponte ovviamente romanico e quindi anzi sono state anche molto bravi però ovviamente si adattavano a quello che trovavano alle pietre che trovavano per cui i vari rostri sono uno diverso dall'altro nonostante il progetto sia stato fatto veramente preciso cioè proprio studiando pietra per pietra ma degli imprevisti diciamo all'interno ci possono essere per cui se troviamo qualche imprevisto di qualunque natura e questo ponte è seguito ricordo dalla sovrintendenza diciamo ai monumenti alle belle arti eccetera che sta seguendo e ha capito l'importanza anche strategica della viabilità per cui anche l'anno scorso ha dato delle risposte veramente velocissime bruciando di tempi però questo potrebbe potremmo subire dei ritardi quindi se tutto va bene 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 diciamo è stato annunciato insomma anche dai nostri amministratori diciamo 45-60 giorni di tempo la chiusura al traffico diciamo totale dopodiché verrebbe riaperto ai veicoli leggeri e quindi ecco questo qui è un po' l'elemento quindi bisogna vedere un po' come va l'andamento ecco partecipare a un progetto per i lavori di restauro a questo ponte io credo che sia una cosa importante insomma perché onestamente credo che anche loro se lo sentano un po' questo monumento come effettivamente lo è insomma ecco quindi quale aria si respira lì quando si fanno questi lavori allora dunque è una è molto emozionante come tipo di lavoro insomma la squadra diciamo allestita è tutta diciamo altamente professionale sta scelta chiaramente c'è un'attenzione particolare perché si sa che si interviene su un'opera unica che ha la sua storia delicatissima e appunto poi qui a Ponteburiano c'è l'attenzione anche da parte di Gualdani insomma e la sua associazione quindi stiamo molto attenti cioè è molto commovente intervenire su quest'opera perché insomma c'è lo sfondo della giocazione insomma quindi bisogna stare attenti a come ci si muove voglio ricordare voglio ricordare che di Ponteburiano se ne è parlato in tutte le nazioni e in tutti i principali giornali New York Times San Francisco Giornale Santa Telegraph poi la TV giapponese sono venute quattro volte per quello che ho visto io poi la BBC la TV USA Studio Si USA per cui ecco l'attenzione su questo punto ovviamente è mondiale credo che sia un modo anche di soddisfazione per chi ci lavora perché tutto sommato sembra che agli aretini gli abbia dato un po' noia quasi questa cosa perché onestamente cioè noi di solito quando i turisti o quando qualcuno viene qui ad interessarsi delle cose e ci dà quasi un po' fastidio qui credo che abbiamo anche la ditta possiamo fare un saluto come si chiama la ditta che si occupa di quest'auto Baroni Luca di dove è la ditta Firenze Firenze allora invece nome Salvatore Capocantiere Capocantiere quindi mi raccomando l'operatore l'operatore una bella una bella soddisfazione comunque una bella responsabilità è un lavoro di prestigio ci mettiamo tutto l'impegno siamo certi che si porterà a fondo con tutti i tempi necessari per fare un lavoro fatto come si deve due squadre al lavoro quindi quante squadre compose quanti sono che ci lavorano 6-7 persone compresi titolare sarei io ok in passato avete fatto c'è qualche lavoro che possiamo citare si è fatto ultimamente si è fatto le coperture di Santa Maria Novella a Firenze abbiamo fatto diverse opere di restauro su monumenti ben tutelati come questo quindi insomma avete già una vasta esperienza si e allora buon lavoro grazie e bocca al lufa a tutti veramente si qui ci vuole veramente un bocca al lufa e poi ricordatevi che io sto da quella parte e tutti i giorni devo andare a Rezzo e quindi ecco mi raccomando cercate di fare un buon lavoro come sicuramente farete e più veloce possibile perché a me andare a passare dal Castelluccio insomma non è che mi allieti poi la vita tanto intanto lo faccio a piedi bisogna farlo in macchina bene allora diciamo che siamo alle battute finali quindi con Alberto magari torneremo poi a vedere come sta andando certo che dovete tornare noi ci contiamo perché l'attenzione vostra è la nostra soddisfazione insomma perché sono 25 anni che ci impegniamo a fondo per la tutela e la valorizzazione di questa struttura quindi l'abbiamo salvato dall'affugamento però sta attento perché se no io parlavo prima di vincoli ma non l'ho detto a caso perché non è che sia scontata del tutto che qualcuno ancora ci pensi ti posso assicurare che ancora ci pensa grazie sì un'ultima cosa se ci permette visto che prego visto che c'è stato anche una mancata comunicazione a parte iniziare i lavori quindi molte persone non hanno capito si pensava con la ditta si pensava con l'ufficio delle viabilità e con Gualdani di organizzare delle visite guidate in cantiere durante i lavori in maniera che mettendosi in una lista ovviamente di persone porteremo settimanalmente chi è interessato a fare una visita guidata nell'impalco del cantiere ovviamente con tutti i dpi di sicurezza eccetera e li farà seguire i lavori in diretta in modo proprio da sensibilizzare le persone all'intervento che stiamo facendo e mai a mani vuote insomma chi viene in cantiere che porti qualcosa che dia una mano quello rigorosamente sì no noi si pensava l'ho fissadito ma ha già detto che non ho sì l'ultima allora noi il 24 25 26 faremo la festa della battitura il sabato sera avevamo pensato di fare una cena sul ponte proprio per in onore di questa struttura che ovviamente ci comporta ancora ce la da convincere ovviamente chi deve poi lavorare perché ce la fa l'illuminazione ce la può c'è tavoli c'è ancora una serie però speriamo di poter andare in fondo penso che sia una bella iniziativa la ditta ha detto che offre il vino di quello buono ovviamente non c'è problema bene siamo contenti di questa iniziativa anzi saremo sponsor anche davvero di questa iniziativa dove come imprese insomma e saremo presenti alla cena insomma qui siamo rimasti purtroppo in pochini per cui a volte lo sforzo può sembrare troppo perché se comincia i primi di maggio a lavorare tutti i sabati e domeniche e quindi insomma sono abbastanza sotto pressione quindi capisco anche loro che a volte siano un pochino però bisogna capiscare l'importanza all'ultimo insomma importante anche per sensibilizzare la popolazione di questo posto di questo paese sensibilizzare anche all'opera del restauro fatti capire che questo è un restauro che serve per la salvaguardia dei ponti non perché ci si diverte a cambiare l'intento grazie grazie a tutti di aver partecipato buon lavoro grazie davvero dopo la pausa invece saremo alla casa dell'energia per parlare di foto per parlare di foto e già qui abbiamo visto già dei panorami eccezionali a tra poco grazie a tutti